Siamo stati fortunati perché potevamo non essere qui a raccontarla. Già la vita nostra bandistica è quello che poi ti succede qualcosa del genere, chiaramente è un macello. Il morale a pezzi, addosso ancora l'odore acre del fumo. Molti di loro sono giovanissimi e non vedono l'ora di tornarsene a casa dopo la brutta disavventura vissuta sul raccordo Avelino Salerno. Tra i 25 musicisti della banda di Gioia del Colle, scampati miracolosamente al ruoco dell'autobus, c'è poca voglia di commentare ed è comprensibile. Li incontriamo. Sono accampati nella scuola elementare di Baiano, dove stamane avrebbero dovuto esibirsi in occasione della festa patronale. Non hanno potuto farlo, poiché le fiamme hanno distrutto divise e parte della strumentistica. E nemmeno avrebbero avuto la forza di suonare, poiché negli occhi e nella mente sono ancora impressi quegli attimi di puro terrore che solo grazie alla prontezza di riflessi dell'autista non si sono trasformati in tragedia. Stavamo dormendo tutti, quindi anche soltanto quell'attimo di soprassalto per svegliarci, per capire che cosa stava succedendo e per poter poi uscire dal pullman è stato un attimo, è una questione di pochi secondi. L'autista si è accorto che il pullman prendeva fuoco, è stato molto calmo fin da subito, è stato, chiamiamo, freddo fin da subito. Meno male, perché ha avuto, ripeto, la prontezza di riflessi e la forza d'animo di accostare immediatamente, di farci scendere immediatamente, aprire immediatamente le porte. Se avesse aspettato, molto probabilmente le porte non si sarebbero aperte e allora sì che si sarebbe creato panico.